Hanno viaggiato per 3.000 miglia sul mare e sulla terra con una grande determinazione e superato avversità di ogni genere per penetrare nel cuore delle regioni sotto l'occupazione giapponese. Quindi noi non esitiamo a definirli veri eroi. Questo è il sentimento del popolo giapponese. Ed è nostro dovere assicurare che i loro nomi rimangano nei cuori degli inglesi e degli australiani per l'eternità. E tuttavia ritengo che la condanna a morte per tutti loro sia assolutamente inevitabile. Questa corte si ritira per decidere. Maggiore Takibana! Le posso avanzare una richiesta, signore? Avanti, talento e dica pure. Possiamo offrire un caffè ai prigionieri? Certo. Anzi, lo consideri un ordine? Sì, signore. Che! 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 Ora sarà letta la sentenza. Questa corte condanna tutti gli imputati presenti alla pena di morte. Grazie per la visione.